Grazie, consigliere Bisonni. Grazie, consigliere Bisonni. Quando c'è è allo sportello bancario, se incominciamo a togliere una di queste quattro cose rimane ben poco. Quindi significa in un certo senso quasi condannare quei territori a un isolamento graduale che poi non può portare al ritorno di una comunità come invece dovrebbe essere. Ecco perché comprendendo questa situazione e comprendendo contemporaneamente il fatto che comunque l'istituzione pubblica può in maniera limitata incidere sulle scelte di un soggetto privato, è importantissimo che ci sia quantomeno l'unanimità di intenti. Credo che anche se per la banca quei territori possono essere territori in cui c'è una rimessa economica, penso che il governo in questo caso potrebbe, e hanno fatto bene i firmatari della mozione, indicare come soggetto il governo, come soggetto che può incidere. Credo che il governo può anche trovare degli accordi economici nei limiti di quello che la normativa consente ovviamente, delle agevolazioni fiscali, non so, penso che una forma possa essere trovata in modo tale da stimolare la banca a far capire l'esigenza del territorio e far ritornare questa banca storica per il territorio marchigiano sui suoi passi. Ecco io me lo auguro sinceramente vista appunto l'importanza di quello che rappresentano questi presidi sul nostro entroterra. Quindi io ovviamente voterò a favore di questa mozione e mi auguro che lo facciano tutti i colleghi. Grazie.